Occasioni come queste sono per noi rappresentanti della comunità dei pazienti delle occasioni veramente importanti di poter portare la voce, di poter portare l'esperienza di quello che stiamo facendo come Accademia dei pazienti nel formare dal punto di vista scientifico pazienti e rappresentanti futuri dei pazienti nei tavoli regolatori, dando loro delle basi di formazione scientifica forte su tutto il percorso di ricerca e sviluppo dei farmaci. È chiaro che questa è una prima fase che cercherà di formare delle persone scientificamente preparate in modo da poter interagire in maniera efficace e che siano anche garanzia per le comunità dei pazienti di poter essere rappresentate da persone con una preparazione adeguata, ma questo poi a cascata dovrà cercare di essere portato a tutta la comunità dei pazienti e se possibile anche la popolazione generale con degli strumenti come per esempio il Toolbox di Eupati che è un sito messo in sette lingue, potete fare una ricerca su Google digitando Toolbox Eupati e lo trovate, lì è possibile verificare direttamente e studiare anche in maniera semplice e senza grandi complessità tutto quello che è il percorso di ricerca e sviluppo dei farmaci. Occasioni come questo, come dicevo, sono molto importanti perché fanno capire che i pazienti coinvolti anche in queste manifestazioni è il segnale principale che sta cambiando i tempi e che i pazienti sono messi veramente, se non al centro, quantomeno a fianco nel tavolo insieme a tutti gli altri stakeholder per parlare di ricerca clinica a 360 gradi.